Visto che appunto prima nella relazione introduttiva di Dastri si parlava del costruire un nuovo cantiere, insomma aver aperto un nuovo cantiere che alla fine costruirà qualcosa di particolare, di diverso, appunto un iPad o un iPad, chiamatelo come preferite, vuole fare proprio questo, ovvero cominciare una stagione in cui i ragazzi o comunque le varie realtà territoriali dialoghino con la forza politica sia a livello locale sia a livello europeo. Che cosa ha portato questo? Ha fatto in maniera che per dover raccontare agli altri quali erano le cose che per noi erano anche abbastanza scontate, un centro giovanile, un farun giovani, alcuni progetti che ormai portiamo avanti da alcuni anni che per noi quindi erano naturali ma gli altri non conoscevano, ha portato a tutta una riflessione interna e quindi diciamo anche a riscoprire alcune cose che davamo così per assodate e quindi non ci sembravano qualcosa di così particolare e quindi appunto grazie anche a questi tipi di progetti tutto il territorio riprende a mettersi in gioco e riprende a riflettere, soprattutto lo fa con i decisori politici, sia locali sia appunto di altri paesi e quindi riattivando un po' quello che veniva detto prima, il vero e proprio diritto di cittadinanza, nel senso che lì si parla appunto di cittadinanza perché anche le tematiche, diciamo, emerse dai ragazzi sono davvero anche tematiche profonde, non sono più solo vogliamo uno spazio in cui incontrarci, stare con i nostri amici o delle feste o dei momenti in cui, non so, esprimere i nostri talenti, dalla musica all'arte eccetera, chiedono proprio ora che abbiamo studiato, ora che abbiamo moltissime competenze eccetera, come possiamo scegliere ad esempio il nostro territorio, quello che abbiamo conosciuto e non le opportunità anche offerte dall'Europa come diciamo luogo di vita attuale e futura, cioè perché non dobbiamo partire, andare all'estero e trovare là un lavoro perché là sappiamo che in qualche forma può essere anche più facile per alcuni dei ragazzi italiani trovare lavoro che sia affini alle proprie professionalità e ai propri diciamo titoli di studio, mentre in Italia c'è anche questa tematica che è difficile e soprattutto loro dicono tutti quelli che hanno un'alta professionalità e un alto titolo di studio fanno sempre più fatica a trovare lavoro, quindi attraverso anche questa discussione sono nate delle idee alcuni ragazzi stanno pensando anche di provare loro stessi a partecipare ad alcuni programmi anche di start up aziendale o cooperativo insomma a livello europeo. Quindi come mai un ente locale si dovrebbe, cioè perché non solo un ente locale scusate, come mai bisognerebbe provare di più ad avventurarsi nella progettazione europea con tutto quello che ne comporta? Come? Come ente, cioè come mai un ente locale che possa essere un comune, una provincia, una regione dovrebbe provare di strutturare ancora di più, se non l'ha già fatto, tutto quello che sono i programmi che sono stati presentati anche prima e quindi attrezzarsi con persone appunto dipendenti o risorse economiche, finanziarie per poter partecipare ai progetti europei, perché probabilmente dopo lo vedremo più nel dettaglio, come si dice, lo sviluppo di tutte queste risorse diventa un vero e proprio investimento a livello locale ma anche a livello europeo perché si possono esportare alcune buone pratiche ed esportare alcune risorse facendo proprio una vera e propria valorizzazione. Come ragazzi e ragazzi locali e stranieri bisognerebbe forse avventurarsi in questo percorso della progettazione europea perché è uno dei percorsi che aiuta a valorizzare le proprie competenze sia professionali sia appunto anche di hobby o di passioni appunto sia dal punto di vista delle risorse locali quindi anche raccontare agli altri partecipanti quelle che sono quelle che venivano dette prima un po' le tradizioni locali, le specificità di alcuni territori, le risorse sia naturali sia industriali pensiamo a un territorio come quello dell'Emilia Romagna, la Via Emilia ha sviluppato anche un modello industriale molto particolare che non è lo stesso in altri paesi d'Europa e quindi i ragazzi possono anche portare questo tipo di specificità. Come associazione a altri soggetti del territorio partecipare a questi tipi di progetti comporta una maggiore coesione territoriale nel senso che si vanno a scoprire anche alcune caratteristiche magari di altre associazioni, ad esempio la nostra Proloco Locale è molto attiva, organizza la fiera annuale quindi in organizzazioni eventi, manifestazioni eccetera, fa la festa di San Martino eccetera e solitamente è molto concentrata sulle attività commerciali o di spettacoli eccetera a livello locale hanno deciso appunto di accogliere questo scambio per 15 giorni che veniva richiamato prima e hanno scoperto che in realtà loro come Proloco non fanno solo questo non è che semplicemente organizzano eventi, manifestazioni che in qualche forma animano il territorio a livello ricreativo ma hanno assolutamente una tutela e una custodia di quelle che sono un po' le tradizioni e i valori a livello locale e che anzi vista con gli occhi dei ragazzi europei si sono andati proprio a stupire tra virgolette di quelle che sono piccole specificità locali come diceva prima Eleonora il discorso del pane da noi sono rimasti assolutamente colpiti dai tantissimi piatti che i signori della Proloco ogni giorno preparavano insieme ai ragazzi appunto primi e secondi separati invece loro mangiavano tutti insieme nello stesso piatto eccetera quindi appunto anche a livello locale la Proloco è rimasta assolutamente contenta di questa nuova esperienza e ha deciso di riprovare nuovamente appunto a diventare non solo più ospitante attivo ma anche un capofile in un futuro progetto europeo quindi i vantaggi e le opportunità di partecipare a questi tipi di progetti sono proprio il cancellamento o la riduzione di alcuni tipi di stereotipi quindi quello che veniva un po' richiamato prima diritti di cittadinanza significano anche cercare di avere un'identità europea che non vuol dire cancellare totalmente le specificità locali ma assolutamente anche appunto ricredersi tra virgolette su alcuni stereotipi una diffusione della consapevolezza della cittadinanza europea significa anche scoprire quanto l'Europa possa offrire ai diversi soggetti enti locali, ragazzi, quindi singoli cittadini o cittadini in forma aggregata quali associazioni o imprese o altri tipi di appunto soggetti l'acquisizione di nuove competenze comunicative, linguistiche e tecnologiche è banale nel senso ovviamente i ragazzi che abbiamo ospitato non parlavano italiano e ovviamente molti dei nostri anziani non parlavano esattamente l'inglese quindi hanno dovuto trovare anche dei modi comunicativi per intendersi e vi assicuro che dopo 15 giorni di convivenza si intendevano benissimo su qualsiasi argomento hanno fatto anche dei dibattiti appunto sull'occupabilità abbastanza interessanti con disegni o altre cose chiaramente tecnologiche perché anche i ragazzi facevano vedere appunto a questi signori come tutto quello di cui loro discutevano era già in rete c'erano già le foto, gli hanno fatto vedere le foto dei loro paesi hanno fatto delle presentazioni dei paesi da dove venivano appunto sia italiani sia lituani sia gli altri con i costumi tipici, con i piatti tipici eccetera tutto veniva immediatamente ripreso ed era online quindi subito questi signori hanno detto anche noi non possiamo essere da meno siamo la Proloco, lavoriamo per questo, figuratevi quindi anche questo ha fatto sì che venisse uno scambio di competenze quindi che cambiasse anche il modo di pensare al di là dei ragazzi in futuro come poi si potevano anche rappresentare a livello locale eccetera la ricaduta su un'intera popolazione locale chiaramente come vi diceva Eleonora tutto il territorio all'inizio era un po' scettico poi ha cominciato a incuriosirsi, ha cominciato ad avvicinarsi e dopo assolutamente hanno continuato a chiederci come vengono non facciamo più il laboratorio di tagliatelle cioè noi li stiamo aspettando assolutamente siamo tutti pronti, avevano già organizzato poi chiaramente non si poteva servire ai ragazzi solo le tagliatelle da loro preparate bisognava assolutamente fare un pranzo al pranzo quindi dovevano partecipare tutte le varie realtà del territorio quindi hanno chiamato altre associazioni dopo c'era un signore che fa i burattini doveva fargli vedere come si fanno i burattini insomma hanno assolutamente diciamo coeso il territorio solo per la loro presenza cioè il loro arrivo e diciamo il fatto che il territorio volesse dimostrarsi accogliente o rappresentare anche di sé quello che sono le proprie specificità ha ricreato coesione sociale anche a livello locale e anche insomma nei mesi successivi tutto il paese continua a parlare di questi ragazzi e di come mai non ne stanno arrivando altri chiaramente non è tutto così eroseo nel senso che sia da parte degli enti che dei singoli cittadini che delle associazioni esistono delle difficoltà delle criticità per fare progettazione europea altrimenti non saremmo qui a dover fare diciamo un corso sulle lezioni d'Europa che vuole sensibilizzare di più sulle opportunità offerte dall'Europa e soprattutto appunto parteciperemo tutti se ne fosse così semplice quindi il coinvolgimento a livello locale dei ragazzi inizialmente è molto difficoltoso perché non riescono a capire non sono anche così diciamo competenti su quello che un'esperienza di questo tipo gli può offrire cioè che cosa perché devo stare una settimana con questi ragazzi o che cosa mi può lasciare diciamo un'esperienza di questo tipo è molto meglio starmene con i miei amici piuttosto che dedicarmi a dell'altro eccetera invece appunto i ragazzi che hanno partecipato ci hanno detto assolutamente cioè io ho studiato benissimo l'inglese all'università eccetera però se poi non lo usi va a finire che un po' lo perdi quindi anche solo come training diciamo linguistico può essere utile oltretutto diciamo invece le altre competenze che vi ho detto prima chiaramente se gli scambi durano anche parecchio tempo sia a livello italiano sia magari in altri paesi bisogna anche avere delle disponibilità quindi non è così facile trovare ragazzi che si possano diciamo prendere questo tempo per fare questi tipi di attività e una volta approvato il progetto se hai quattro ragazzi italiani che devono partecipare soprattutto andare all'estero come in Nipad avete visto prima abbiamo mandato quattro ragazzi prima in Spagna e poi in Lituania cioè le date progettuali erano quelle quindi non è che potessimo dirgli no vabbè se non puoi questo weekend ci andiamo tra due weekend erano assolutamente precisi quindi se alcuni ragazzi lavorano già o studiano eccetera è sempre difficile trovare i partecipanti tutte le questioni burocratiche potete bene immaginare che cosa comporti soprattutto per un ente tutto l'itero amministrativo anche solo la sigla del partenariato piuttosto che la compilazione in inglese chiaramente delle application form o di alcune diciamo comunicazioni che vengono anche con gli altri partner eccetera secondo tempi anche molto stretti molto spesso molto a ridosso della scadenza eccetera per non parlare poi di tutta la parte della rendicontazione quindi questa è una difficoltà una criticità ma non è infattibile perché altrimenti non esisterebbero invece esperienze di questo tipo a livello locale chiaramente anche difficoltà organizzative o logistiche nel senso che è necessario assolutamente cercare di pensare prima a tutte quelle che possono essere diciamo le risorse che devono essere attivate o che devono essere pronte e attivabili da un momento all'altro una banalità se appunto si fanno certi tipi di progetti comuni come i nostri il tema dei trasporti e della mobilità non è così indifferente nel senso che va benissimo ad esempio portare i ragazzi a Bologna una sera perché chiaramente offre molto più opportunità che non i nostri comuni però poi bisogna capire come tornare perché non è così semplice l'autobus a una certa ora non c'è più eccetera quindi anche quando si scrive il progetto bisogna assolutamente tener conto di tutti i passaggi anche logistici delle varie azioni dei vari interventi di chi viene coinvolto di come eccetera quindi assolutamente perdere diciamo qualche tempo in più per tutto questo particolare e individuare immediatamente sul territorio quelli che possono essere dei referenti per o specificità di problema diciamo o anche per orari perché non è banale ma appunto i dipendenti pubblici hanno un orario quindi se sono loro i referenti anche per i ragazzi se succede qualcosa la sera o il nuovo weekend li abbandoniamo tra virgolette a loro stessi chiaramente in divenire noi ormai ci siamo un po' ammalati d'Europa come diceva prima Francesco e quindi vogliamo assolutamente proseguire in questo percorso che come vi dicevamo è stato un escalation in questi due anni perché come parte politica anche sentiamo un peso abbastanza importante che è quello di non solo lasciare qualcosa al nostro territorio ma appunto giustamente a un mandato a scadenza subito dopo abbiamo il timore che non rimanga più niente quindi tutta questa contaminazione territoriale che in qualche forma ha prodotto questo escalation da ente ospitante fino a ente capofila se viene meno diciamo chi ci crede e dà l'input politico vorremmo che appunto diventasse qualcosa di quotidiana amministrazione quindi assolutamente coinvolgere gruppi locali giovani già attivi sul territorio può essere un modo per creare una vera rete attiva che indipendentemente da la presenza o meno o la spinta dell'ente locale impulsiva quindi di start up possa in qualche forma venire da loro il desiderio di partecipare di progettare di ospitare tipi di progetti di questo tipo e quindi magari riconvolgere anche ente locali e territorio in momenti successivi maggiore attenzione alla produzione di strumenti di presentazione ovvero anche qui una banalità non abbiamo nessuna cartina nessun pezzo del sito piuttosto che non so cartelli informativi all'interno dei nostri territori che non siano in italiano quando ci sono perché spesso volentieri anche dove siamo o dove si può trovare la farmacia piuttosto che alcuni servizi di minima sono talmente scontati soprattutto in piccoli comuni come i nostri che appunto quando arrivano degli ospiti è molto più difficile insomma aiutarli nell'anche orientarsi sul territorio quindi anche la presenza di questi ragazzi potrebbe essere un modo per coinvolgere loro stessi che quindi ci vedono da fuori e quindi magari hanno esigenze e bisogni che noi non siamo così abituati anche solo a pensare per appunto lasciare qualcosa al territorio ovvero ad esempio un progetto come quello dello Svesta hanno qui un anno si potrebbe chiedere loro di aiutarci a internazionalizzare i nostri siti quindi mettendo anche solo quattro informazioni chiave in inglese piuttosto che una cartina con alcuni punti significativi eccetera questo dopo può essere utile all'ente o a tutto il territorio per presentarsi poi anche a degli altri valorizzare alcuni luoghi tradizioni poco conosciute appunto ci siamo accorti che portandoli in giro per i territori abbiamo veramente delle strutture delle persone dei modi di fare di essere delle tradizioni che andrebbero fatte conoscere molto di più di quello che stiamo facendo ora quindi questo può essere anche un modo per consolidare questi tipi di esperienze per appunto valorizzare maggiormente i territori quelli che possono essere non so alcune tradizioni anche agricole o appunto locali inoltre appunto riuscire a diffondere le buone pratiche attraverso una riflessione che le faccia emergere nel senso che è difficile anche valutare una buona pratica o se o se quel tipo di azione o di intervento o di politica ha prodotto buoni risultati o meno da essere esportata in altri territori nel senso a livello locale magari si sono verificate tutta una serie di condizioni che sono possibili solo lì invece il discorso della diffusione delle buone pratiche significa anche individuare alcuni pezzettini di azioni di intervento che possono essere poi utili ad altri territori per poter risolvere o la medesima problematica o ad avvicinarsi diciamo a un obiettivo comune quindi questo porta anche a un modo diverso di vedersi come territorio che può essere assolutamente utile anche per migliorarsi e per aggiustare alcune cose chiaramente le prospettive di miglioramento sono tantissime quelle su cui appunto volevamo un po' soffermarvi con voi è un maggior coinvolgimento a livello locale fa sì che davvero quello che veniva detto prima ovvero la cittadinanza attiva europea venga in qualche forma diffusa e operata in senso pratico dagli stessi cittadini perché appunto anche se si è ragazzi o se si è non più ragazzi che possono partecipare a gioventù in azione si possono comunque offrire qualche tipo di risorse competenza a momento qualche ora diciamo a questi tipi di esperienza a livello locale appunto attraverso un coinvolgimento in prima persona chiaramente quando si scrivono progetti e quando si diciamo va a fare questo tipo di riflessioni bisogna scegliere quello che è il momento dell'anno più adatto perché non è banale ma appunto soprattutto portare lituani ai nostri 12 ragazzi in pieno dicembre a meno 15 non è stata magari la scelta migliore del periodo migliorare i tempi di comunicazione nel senso che anche se si vuole coinvolgere a livello locale parte della cittadinanza non lo si può fare con tre giorni di anticipo bisogna avere molto prima il programma i momenti che sono dedicati ai ragazzi i momenti in che sono dedicati a tutti eccetera chiaramente migliorare le informazioni in merito agli scambi nel senso di fare conoscere quelle che sono le opportunità i motivi che dovrebbero spingere i ragazzi a partecipare e anzi come veniva detto prima quello che ci si può poi riportare a casa da uno scambio e chiaramente pubblicizzare al massimo costi e benefici della partecipazione anche attraverso a chi l'ha fatta in prima persona così da essere un esempio anche per gli altri